Io sono Stefano D'Ambrosio della Fire, l'intervento di oggi è stato sulla nomina degli Energy Manager, un ruolo che è in costante crescita negli ultimi anni, anche le certificazioni degli Energy Manager in age sono in costante crescita. Anche le aziende che hanno nominato Energy Manager, che si sono poi certificate ISO 50001, sono in costante crescita negli ultimi anni. Abbiamo portato avanti una serie di indagini sul ruolo della figura dell'Energy Manager, in particolare ci siamo focalizzati sull'industria 4.0, sui sistemi di monitoraggio, sui benefici non energetici connessi agli interventi di efficienza energetica e su split incentive, EPC e conto termico. Ciò che risulta dalle indagini in tema di industria 4.0 è che molte imprese hanno intenzione di adottare, qualora non l'abbiano già fatto, finanziamenti in ottica di iper e super ammortamento per intraprendere un percorso virtuoso in industria 4.0.